Come un istinto. Chi è il paragnosta? Commento. È un medium chiaroveggente che vede cioè il presente. Non vede né il passato né il futuro. Vede il presente come un istinto che lui ha acquisito per evoluzione che, essendo tutto concatenato, porta chi viene in contatto con la sua chiaroveggenza ad evolversi.